Juve. Le parole di Szczesny queste sono le sue parole per il portale polacco sport tv più offerte. Dalla rabbia? Ho già guadagnato molti soldi in vita mia. Preferisco sfide divertenti e difendere la porta della Juventus è la sfida più bella che posso avere. Ho letto molto poco di me stesso ma non c'è alcun argomento ed è improbabile che una voce possa avere influenza su di me. So che lo sono e sarò un giocatore della Juventus. A meno che non mi voglia. Sono legato a questo club e rispetto le loro decisioni. Mi vogliono qui per difendere la porta della Juventus. Szczesny e l'obiettivo di Scudetto Szczesny continua parlando dell'obiettivo di Scudetto il desiderio di riguadagnare lo Scudetto è sempre più grande. Ma questo club è così abituato a vincere che il giorno dopo aver raccolto un trofeo che vuoi vincere un altro. C'è frustrazione il fatto che abbiamo non ho avuto successo ultimamente. Ma c'è la motivazione per tornare a lottare i più grandi obiettivi. Finalmente l'argomento dell'Europa ora passerò anche martedì e mercoledì con la Champions League solo. Di fronte alla TV. Siamo stati espulsi dalle coppe europee e non ho intenzione di fare nulla al riguardo. È ciò che è e ora ci sarà più tempo per allenarsi in modo valutato e un po' più di riposo. Per la prima volta nella mia carriera. Non è la fine del mondo per me che siamo stati trattati mentre siamo stati trattati.